Se fino a poco tempo fa erano zone abbandonate a se stesse, ora si stanno rivoluzionando e si preparano a farlo trasformandosi in quartieri completamente nuovi. Scopri insieme a noi quali sono! Rogoredo, uno dei tasselli di rilancio di una zona famosa per essere vicina al noto boschetto della droga, oggi sanato, è quello che il presidente del conservatorio Giuseppe Verdi ha definito Bosco della Musica. La necessità di trovare nuovi spazi e di proporre nuovi corsi di musica ha portato il conservatorio ad ampliarsi, andando a riqualificare anche la palazzina Ex Chimici, meta di pellegrinaggi dei tossicodipendenti. È proprio questo luogo ad essere al centro del progetto che vede una riqualificazione urbana emblematica, anche dal punto di vista ambientale. Nel progetto è prevista la costruzione di un auditorium da 350 sedute, un bar, un ristorante, nuove aule e laboratorio all'avanguardia, una sala prova e uno studentato da 200 posti letto. Un investimento di circa 47 milioni di euro per un campus pronto a ospitare dai 600 agli 800 studenti. L'obiettivo è inaugurare entro l'anno accademico 2026-2027. Santa Giulia Nord. Qui è previsto un progetto che vede la nascita di un parco urbano grande 330 mila metri quadri, una nuova area con residenze uffici, un'area commerciale e di svago. Tra le opere la più importante è sicuramente il Pala Italia, il palazzetto dello sport che ospiterà le gare di occhi su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La prima pietra è stata posata a novembre 2023 e la conclusione dei cantieri è prevista entro alla fine del 2025. Cascina Merlata. È il quartiere di Milano situato vicino all'ex area Expo 2015, oggi Mind. Qui è stato costruito un parco urbano di 250 mila metri quadri, un plesso scolastico e lifestyle center Merlata Bloom, inaugurato a novembre 2023. In fase di ultimazione, gli ultimi lotti degli alloggi di Uptown, presentato come il primo Smart District di Milano. Un quartiere nel quartiere, pensato per le famiglie. Si tratta dell'unico distretto a Milano e in Italia, pensato per coniugare casa e lavoro, benessere e salute. I lotti di Uptown sono quasi tutti sold out e in buona parte già abitati. Al termine dei cantieri, il nuovo quartiere dovrebbe contare tra i 12 e i 15 mila residenti. Bisceglie. Il progetto di rigenerazione urbana è in fase avanzata di realizzazione. Si trova in un'area di oltre 300 mila metri quadri, in possibilità della metro Bisceglie, e prevede un nuovo quartiere multifunzionale, con uffici, spazi commerciali e residenze, immerse in un parco di oltre 16 ettari. La firma è di un noto archistare italiano famoso per il nido verticale in Porta Nuova, Mario Cucinella. Al centro, un grande parco urbano di 160 mila metri quadri, inserito all'interno di una catena di parchi urbani, tra loro collegati da una pista ciclopedonale. La realizzazione del primo lotto residenziale è prossima alla conclusione. Per il secondo lotto, invece, i lavori sono programmati e verrà realizzato entro il 2025. Tutto il progetto sarà concluso tra il 2026 e il 2027. Mind. Si tratta di un parco tematico e scientifico tecnologico di 650 mila metri quadrati, nel quale è previsto l'insediamento di tre importanti funzioni pubbliche, il nuovo polo ospedaliero Galeazzi, il polo di ricerca per la scienza e della vita Human Technopole e il campus dell'Università Statale. L'ospedale Galeazzi è in funzione d'agosto 2022. Lo Human Technopole, composto da sette centri di ricerca, è già in parte operativo con Palazzo Italia e altri seguiranno nei prossimi anni. Il campus dell'Università Statale verrà invece inaugurato per l'anno accademico 2026-2027. Lo sviluppo di tutto il nuovo quartiere dovrebbe terminare entro la fine del 2032. Symbiosis. Il progetto, sviluppato su un'area di 125 mila metri quadri dalla società immobiliare Covivio, dovrebbe arrivare a compimento entro il 2026. Tra gli edifici in costruzione ci sono vite caratterizzato da una spirale verde, un sentiero con una pergola di vite che sale in cima all'edificio, la nuova sede di Snam, un grande parco con specchi d'acqua e un teatro verde, il nuovo headquarter di Montclair. Farini. Lo scalo Farini è anche lo scalo più esteso a essere riqualificato. L'area su cui si estende è di 468 mila metri quadri, di cui 300 mila destinati a un parco. Sono previste anche aree residenziali, commerciali e uffici, il campus dell'Accademia di Brera e il futuro headquarter di Unicredit. Il progetto prevede una configurazione dello scalo Farini capace di raffreddare i venti caldi, provenienti dal sud-ovest, e di depurare l'area delle particelle più tossiche. Gli edifici attualmente presenti nello scalo saranno riqualificati e ne verranno costruiti di nuovi, come una promenade, una ciclofficina, uno spazio eventi e concerti. E quindi ora chiedo a voi, che cosa ne pensate di queste trasformazioni?